Il terzo capitolo del primo libro del De Monarchia di Dante Alighieri riprende la domanda con la quale si concludeva il capitolo secondo. Qual è il fine universale dell'umanità? Questa è la domanda che Dante pone nel termini seguenti. Dice infatti Dante quid sit finis totius umane civilitatis, quale sia il fine ultimo di questo aggregato totalitario dell'umanità, visto ciò che più che metà della nostra fatica sarà superata, come dice Aristotele nell'etica anicomaco. Qual è quindi il fine universale dell'umanità? Come la natura crea il pollice per un fine e la mano per un altro, il braccio per un altro ancora, così dice Dante si dà un fine per l'uomo singolo, un altro per la famiglia, un altro per la città, un altro ancora per l'intera umanità. Dice appunto Dante che analogamente a un fine essa preordina l'individuo, a uno la comunità familiare, a uno il vicinato, a uno la città, a uno il regno e finalmente termine di perfezione è quello per il quale Dio eterno dà vita al genere umano e universale, usando l'arte sua, cioè la natura. E perciò noi guardiamo a questo termine come un principio che diriga la nostra ricerca. Dobbiamo quindi individuare il fine ultimo dell'umanità. Ogni cosa è finalisticamente orientata, dice Dante sulla scorta di Aristotele. Dante ragiona in termini teleologici, ritiene quindi che le cose rispondano sempre a una causa di ordine finale. Ebbene, dice Dante, esiste dunque un'attività propria dell'intera società umana e che sia il fine ultimo e supremo di questa? Qual è? L'essere indeterminato? No, ciò è proprio di tutti gli elementi. Quindi l'essere composto? No, si ritrova pure nei minerali. L'essere animato? No, si ritrova pure nelle piante. L'essere capace di apprendere? No, si ritrova anche nei brutti. Ma l'essere capace di apprendere per mezzo dell'intelletto possibile ciò che si può attuare oppure no. Anche gli angeli vivono di intelletto, ma non possibile, altrimenti non sarebbero eterni. Sicché, dice Dante, l'attività peculiare dell'intera umanità è l'attuazione dell'intera potenza dell'intelletto prima per speculare e infine per agire. L'umanità esiste per portare a compimento le sue potenzialità pratiche e teoretiche. Dice Dante, vi è così un operare che è proprio dell'universale degli uomini e a quello l'umanità nella sua così vasta moltitudine è preordinata. Un operare a cui non può giungere né un uomo solo né una famiglia sola, né un vicinato né una città sola, né un regno particolare. Quale sia questo operare sarà chiaro se si rivelerà l'estremo attuarsi della potenza dell'umanità nel suo tutto. Ecco, Dante non domanda quale sia il fine del singolo uomo o della famiglia o della città, ma dell'umanità intesa come un unico soggetto universale. E quindi opera per distinzione appunto differenziando l'umanità da altre realtà che non coincidono con essa, come si diceva, i minerali, l'essere animato e tante altre realtà, perfino gli angeli, che non coincidono appunto con l'umanità. L'umanità invece è qualcosa di fine a se stesso che deve sviluppare le proprie potenzialità. Dice Dante, poiché questa potenzialità non si può tradurre in atto in una volta e nella sua interezza per opera di un uomo solo, di quelle comunità particolari che abbiamo distinto sopra, è necessaria nel genere umano una pluralità, per mezzo della quale questa capacità si attua interamente, allo stesso modo che è necessaria una pluralità di cose generabili, perché tutta la potenzialità della materia prima si traduca sempre in atto, altrimenti si darebbe una potenzialità a se stante, il che è impossibile. E in questa opinione concorda anche Averroè nel commento al De Anima, testo che Dante conosce bene, Averroè che il gran commento feo viene da Dante valorizzato anche nella commedia, come è noto, e molti interpreti si sono avventurati a sostenere che l'averroismo sia una componente ben presente nell'opera di Dante. Infatti, dice Dante, la potenza intellettiva di cui io parlo non si riferisce solo a forme universali o specie, ma anche per estensione a forme particolari, per cui si suol dire che l'intelletto speculativo diventa per estensione intelletto pratico, il cui fine è l'agire interiore e l'operare esterno. Alludo rispettivamente a un agire ispirato alle norme di saggezza politica e a quelle attività che sono guidate da regole d'arte, le quali tutte sono subordinate alla speculazione, termine di perfezione per il quale il sommo bene ha dato vita al genere umano. Di cui è chiaro fin d'ora il detto della politica che gli esseri dotati di forza intellettiva sono da natura chiamati a primeggiare sugli altri. E con queste parole si conclude il terzo paragrafo del primo libro del De Monarchia.